Ma non vi preoccupate, fate fare a me, ma si sono approfittati perché io non ero in vacanza, capito? Oh carissimi, come va? Ma veda, sono qui a fare le prove perché venerdì andrò a discutere per far ridurre la squalifica del nostro Gonzalo Higuain, detto Pipita. E chi ci deve andare, l'avvocato? Normalmente sì, ma no ci vado io perché è chiaro che, ma quello voglio dire se vado io il giudice che vuoi mettere, sì sì ho proprio, ho anche la toga, guarda io la metto e faccio la mia porca figura. Eh, fa la riga, fa la riga, che dice, che dice? E che dirò, prima di tutto dirò, no signor avvocato, sentite a me, non vi mettete scuola, sentite a me, non vi mettete scuola, ma che mi fai tu? Eh che state dicendo? Ma che zappatore, zappatore, che io dicevo no signor avvocato, non sono d'accordo, sì. Ma ecco, non è d'accordo. Dirò per esempio, vostro onore, nel senso che l'onore è vostro, che io sto qui adesso, perché... Entra la corte! Entra la corte! Entra la corte! Ma chi è sta corte? Quale corte? Ma chi è sta corte? La sorella di Insigne! Ma chi è la sorella di Insigne? No, la corte! Ma io sono sintatico, capito? Selva, qual è l'idea che lei vuole portare? Praticamente la mia ringa, verte su una situazione ovviamente chiara e netta, dunque si vede dai filmati, si vede che Irrati è lui che va addosso a Iguaini. È vero, è vero, è vero. E Iguaini non può fare altro che mettere le mani, perché Irrati li va addosso, quindi Irrati non rispetta lo stop. E va a buttare Iguaini. Quale stop? Il quale pipita suddetto è chiaro e palese che veniva da destra. Ma che cos? Veniva da destra. Ma mica è un sinistro? Che sinistro? Ma che sinistro? È un sinistro? Iguaini è destro. Che c'è tra il sinistro? Ma lo faccio, mi è trasta la cava. E allora, tra l'altro, i suoi testimoni, tutti hanno visto che l'Iguaini veniva da destra. Quello non si è fermato allo stop. E c'è stato... E su questo ovviamente sono convinto. Bella, bella difesa. E poi io glielo dico a un certo punto, mi devono rispettare. Ah, beh, certo. E lo dico al giudice. Ad nocce. Poi è vasma Iguaini. Ascente già. Sta bene. Grazie Presidente. E poi vediamo. Ma sì. Grazie. 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 Grazie.